Sei un appassionato di cinema e delle sue tecnologie? Ti affascina l'evoluzione della ripresa televisiva? Vuoi scoprire le qualità di un audio professionale? Vuoi scattare una foto con le tecnologie del futuro? Professional Tour! L'unico evento del Sud Italia dove si incontrano i professionisti del mondo cinema, tv, radio e foto. E ora il Professional Tour apre le porte a tutti gli appassionati. Partecipa anche tu! 25 e 26 marzo rende Cosenza. 28 e 29 Catania. 1 aprile Salerno. Orario continuato 10.18. Ingresso gratuito per info 0984 21 412 o vai sul sito professionaltour.it Professional Tour è un evento professional service.